Musica Figlio di Troia Cazzo di affare del merlò Va bene Damien Vediamo se ti ha sfuggito qualcosa Proprio lì Merda Ma che... Ehi! Sono io! Mi hai chiamata tu Cazzo Ho troppe cose in testa Già Ok, vieni qui, dai un'occhiata Lei chi è? Non lo so, il file è danneggiato Come posso riprodurre questo video? No, è impossibile Ti serve l'originale Sto facendo una ricerca sul tuo accesso al CTOS È di questo che volevo parlarti Senti, non credo che lui ne sappia nulla Se ne sarebbe notato Di chi parli? Forse lei è un indizio O no Devo essere un passo avanti a lui Sei nei guai? Un indirizzo IP? Sì, me l'ha dato lui Puoi scoprire di chi è? Cos'è questa storia? Aiden Rispondimi Non farò niente figlio L'ha rapita, Clara Sta... Sta... Usa mia sorella come ostaggio Oh, cazzo Quello che hai rintracciato? Sì Damien Damien Brains Io... Non posso aiutarti Devo andare Ne riparliamo dopo, ok? Quando hai finito Vieni qui Che succede? Coprire il leo di chi? Vieni qui Vai! Sono preso Aiden Ciao a tutti ragazzi Qui è sempre Nomiz Ancora non è più per ore In compagnia di Marco Questo è l'episodio 13 Sì, l'episodio 13 E dai, inizio così E c'è questa sorta di sparatoria Anzi, sorta È decisamente un'esperatoria E speriamo di farci La prima di morire Perché non si sa Una bazzarza scarso su queste osi Giù, stai giù Buona la testa Dai, fatti vedere Da Oh Usarei Ma c'è la botta Lo ho visto Ci sono rinforzi Unità di rinforzo sul posto Arrivano da davanti Non fermarti Ci siamo quasi Andiamo, andiamo Forse è meglio Mettici No, fatti vedere Morto 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 E andiamo di va Ci serve, aiuto Contra, no Ma cosa vuol Mi devo buttare Siamo qui, ci pensiamo noi Volevo andare Forse devo scendere Andiamo a vedere Vai Ma perché Per sempre Scoppia Fa una bella botta Mamma mia Va Vai a quell'altro Sperando che mi ammazzi Ora si fa vedere Per forza Tira sulla testa Ok Perfetto Andiamo, andiamo Andiamo La domanda Dietro O devo salire Saliamo Guardiamo Ma vedrai Dove devo andare Vai Sali in macchina Qui ci penso io No Sali Sali Perché No ragazzi È uno scherzo Ma cosa fai Vai via Si è stato ucciso Ma come ho fatto Se la riparo Dai Mamma mia Signore Riproviamoci Come sempre Se un buono Una volta Non sono contento Ci sarà una volta Che morirò Ok vai Ora Scappo dalla zona Dei motel Allora Lo scappo anch'io Devo Una macchina E Quando è che si Ce ne fosse una Faccio questa V Andiamo 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 Che noi Travano Ora Allentiamo Allora c'è un dettoneo indietro Clare Tutto a posto No che non è tutto a posto Cristo Dimmi chi sei Non so come risponderti So dove possiamo parlare Di essere seriamente Stai vedere Oh Ok ho finito la missione Però Diciamo che è stata abbastanza corta Quindi quasi quasi Provo a farne anche un'altra Provo Provo bene Stiamo di farcela Che livello di tempo Sai Non vorrei fatto il video Troppo lunghi Noiosi Sempre che Sempre se Vesti il giau lo siano Non mi riguarda No Sfaggirà Scusate Ma fai presto Mi serve concentrato Allora Cos'è Una puttana Aiden Jax Fantastico Ho un fixer alle costole Devo sbarazzarmi No Che palla Allora facciamo così Diciamo Questo video si conclude Con Diciamo L'uccisione Di Di queste fixer Promissioni Ci vediamo Al prossimo episodio Al quattordicesimo Va bene Vabbè Tu ti rispondi Però faccio così Spera che ti vada bene Che la gente Limmona Ma Questa Sia Vedi Trova Simetra Ma Sai Almeno Online Vero No Perché Sai Mi auguro Che sia Una Sede Del Gio Mi auguro Sì ma Dov'è Non deve necessariamente Farlo Vado a farlo Dalla zona Cosa succede Ma io non ho voglia di farlo Vabbè Facciamo così Tanto è un fixer Regola non è niente Di Di Entusiasmanti A regola Il video Lo finisco qui E ci vediamo direttamente Alla Prossa missione Va bene Io Ci rimango dentro Al cancello Vabbè Detto questo Che è tutto Niente Ciao a tutti La 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 Grazie per la visione!